Un'immagine satellitare che con un rapido zoom arriva fino al cuore dell'aquila ferita, dei bambini che con la scritta l'aquila sulle maglie giocano con una palla ovale bianca e verde, mentre una rivisitazione del lino nazionale fa da sottofondo musicale. Inizia così lo spot Il Coraggio di Ricordare, ideato dal vice sindaco del capologo abruzzese Gian Paolo Arduini. Il video si chiude con le immagini del noto centrocampista della Roma, Daniele De Rossi. Protagonisti dello spot, oltre ai bambini, sono nomi di spicco del rugby azzurro, come Andrea Masi e Maurizio Zaffiri. Io non posso dimenticare, io non devo dimenticare, noi non vogliamo dimenticare, io non riesco a dimenticare, tu hai già dimenticato. Sono queste le parole che i giocatori pronunciano mentre si passano la palla. L'ultimo a ricevere l'ovale bianco-verde è proprio Il Calciatore De Rossi, che a conclusione del filmato, con addosso anche lui una filpa, bianco-verde recita il titolo dello spot L'Aquila, Il Coraggio di Ricordare. In questo modo, con le immagini dei bambini che giocano e le loro urla di gioia, che si contrappongono alle drammatiche immagini di una delle più belle e più colpite, Piazza Aquilana e Piazza San Pietro, la tragedia del terremoto tornerà nelle case degli italiani, attraverso la campagna sociale del Comune dell'Aquila, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Aquila, Il Coraggio di Ricordare.